Il signor Massimo Bidò intende prendere il moglie da cui presente Daniela Bresciani? Lo voglio. Lei, signora Daniela Bresciani, intende prendere il marito di cui presente Massimo Bidò? Lo voglio. In seguito alla risposta affermativa, io a Beppe Orden, ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pugnano del Carta, dichiaro il nome della legge che siete uniti in matrimonio. Grazie.